Vedete bentornati in questo nuovo video, ragazzo vi spiego dove trovare il bastone di scintipietra di Azo Dirigetevi qui in questo posto, ho dovuto dividere il video in tre parti perché in un'unica registrazione Sono riuscito a trovare tre belle cosucce che vi potrebbero interessare Nel video precedente ho mostrato su come trovare la maschera di scintipietra del bisapio Quindi, sempre qui, questo posto, nel video precedente è lo stesso video Però, spiegato in modo diverso, nel senso che sempre in questa direzione non solo troverete il bastone di Azo Ma troverete altre cose, quindi altre cose le troverete sul mio canale, quindi guardatevi quei video e capite Quindi io vi auguro una buona visione, ci vediamo direttamente lì, mentre raccolgo il bastone di Azo Quindi, buona visione Grazie 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 Salete qua sopra su questo lampadale, vi buttate giù Uttergetevi da questa parte Trollate un po' con questo stregone Uccidetelo, fate quello che volete Basta che andate da questa parte E sempre più avanti troverete quel cavalliere Mezza sega che si crede di essere Potentissimo, invece non lo è Perché all'inizio quel tizio ti faceva proprio Il culo E niente, questo l'ho matato subito Guardate Ma via dai coglioni, mamma mia 3000 di vita c'ha questo Entrate qua dentro E eccolo qua, il bastone De scintipetra di Azur, molto semplice Quindi ragazzi Grazie a tutti per questa visione Lasciate like se il video vi è stato utilissimo E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao